Seduti nei loro salotti, impegnati in qualche discussione in una redazione di giornale, mentre preparano qualche sketch televisivo, improvvisati commentatori politici scoprono che c'è qualcosa che non funziona nella democrazia, procedendo ad una comparazione abbastanza improbabile fra l'elezione presidenziale di Trump e il referendum costituzionale voluto da Erdogan. Questa comparazione è assolutamente fuori luogo perché nel primo caso Trump siamo di fronte ad una elezione che è stata democratica, seppure come sempre con qualche broglietto in qua in là perché gli americani non hanno ancora messo ordine nei loro 50 sistemi elettorali, ciascuno Stato fa come vuole e comunque Hillary Clinton ha tenuto la maggioranza assoluta dei voti, più di 2 milioni e 800 mila voti di quelli ricevuti da Trump, mentre Erdogan è un autocrate, le regole fondamentali della democrazia là non esistono, non c'è libertà di stampa, non c'è libertà per l'opposizione di fare la sua campagna elettorale e alla fine sembra che ci siano state 2 milioni e mezzo di schede non timbrate e quindi prodotte evidentemente dai cacicchi locali a favore del loro capo nazionale. No, non siamo di fronte a una crisi della democrazia, siamo di fronte da un lato a qualche inconveniente di funzionamento nella democrazia degli Stati Uniti che prima risolvono gli americani meglio è, ma naturalmente chi vince non ha nessuna intenzione di risolvere quei problemi, dall'altro ha una non democrazia che è quella di Erdogan che si mantiene al potere utilizzando tutti gli strumenti che quel potere gli consente e schiacciando l'opposizione. Quelle non sono a elezioni libere, non lo sono state le ultime volte dove peraltro Erdogan ha avuto delle maggioranze declinanti e non lo sono state in questo caso. Quando parliamo di democrazia sarà bene che ci ricordiamo che si tratta di regole, di procedure, ma soprattutto che c'è una sostanza e cioè che bisogna sempre consentire all'opposizione di poter fare appello ai cittadini. Poi naturalmente possiamo anche dirci che bisogna educarli quei cittadini, ma non saranno questi commentatori provinciali che con le loro battutine a educare i cittadini. È un'opera che devono svolgere soprattutto i politici partiti e quindi semmai il problema è quando i partiti sono diventati delle organizzazioni personalistiche. Ahimè, questo è il problema italiano.